L'agenda 2030 è un'agenda che propone tre tematiche come tematiche di base, la tematica ambientale, la tematica sociale e la tematica economica. Si articola in 17 obiettivi e la priorità delle donne è fondamentale per la realizzazione di tutti e tre questi pilastri, il pilastro economico, ambientale e sociale ed è fondamentale per la realizzazione di tutti e 17 gli obiettivi. E' fondamentale per realizzare i tre pilastri, prima di tutto perché non si può pensare a una realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono appunto anche obiettivi sociali, senza pensare alla realizzazione dei diritti della metà dell'umanità, della metà rosa del mondo. Quindi questo è un primo punto. Il secondo punto è che senza l'apporto delle donne sarà anche impossibile costruire uno sviluppo economico e sarà anche impossibile immaginare soluzioni che possano coniugare la crescita economica con le risorse ambientali che abbiamo a disposizione. Le donne sono le prime vittime di tutti questi cambiamenti climatici che hanno portato tanta distruzione e tanti drammi in paesi sia sviluppati sia in via di sviluppo. Le donne sono le prime a subire questi cambiamenti, ma sono anche quelle che hanno le risorse per portare cambiamento e dobbiamo dargli voce perché siano capaci di portare questi cambiamenti nel mondo produttivo, nel mondo di domani. Grazie a tutti.